Amici di Country Mommy, buonasera! Eccoci qui, anche stasera ci ritroviamo per girare e aprire insieme la porta numero 6 del calendario dell'Avvento di Casa Claus. Ve la giro subito così vi faccio vedere domani che tipo di attività andremo a fare. Ecco qui, domani, secondo Mrs. Claus, è il giorno del bacio e allora lei che cosa fa? Riempie la casa di vischio, lo mette sotto tutte le porte perché dice che così non si sa mai Babbo Natale dovesse dimenticarlo, vedendo il vischio si ricorderà di baciarla. Come sapete la tradizione di baciarsi sotto il vischio è molto antica e viene dalla leggenda secondo la quale il vischio doni fortuna agli innamorati, per cui se due innamorati si baciano proprio stando sotto un ramo di vischio la loro storia durerà per sempre. E allora, siccome abbiamo anche noi bisogno di belle storie a lieto fine, direi che forse potremmo costruirci un bel ramo di vischio da mettere in casa e sotto il quale poterci baciare. Io ve ne propongo uno, vediamo se vi piace, è molto semplice da realizzare. Prendo tutto il necessario. Allora, per questo progetto avremo bisogno di feltro. Potete utilizzare il feltro più sottile tipo panno oppure potete utilizzare quello un po' più spesso, che è quello che io preferisco. Le forbici. Il cartamodello. Il cartamodello lo troverete poi gratuitamente nella sezione cartamodelli gratuiti del sito www.countrymommy.com Lo caricherò domani, quindi lo troverete sicuramente lì. Che cosa bisogna fare? Tagliare le forme del nostro agrifoglio. Io l'ho disegnato a mano libera, mi piacevano così. Si mettono la forma sul feltro e si ritaglia perfettamente così come è disegnata. Una volta tagliate, io ne ho tagliati 5 pezzi, ora poi se voi volete farne più lungo tagliatevi più lunghi di questi. Magari fate uno stelo un po' più lungo o invece più corto se volete fare dei mazzettini piccoli. Come preferite. Non avete bisogno di cucire, non avete bisogno di nulla perché tutto ciò che dovrete fare è andare ad incollare il vostro agrifoglio. Io l'ho montato su questa sorta di ghirlanda di ferro, molto sottile, un ferro sottile. Ho realizzato un ramo di agrifoglio con la colla a caldo incollato il tutto, ho messo le palline e sopra un bel fiocco. La cosa bella di questo è che è fronte e retro uguale, quindi se voi lo appendete sotto la porta lui girerà quanto vuole ma sarà sempre al dritto. Vedete? Ci ho messo su anche una tag che richiama i baci così caso mai uno fa finta di non ricordarsene... Oh c'è anche il biglietto, questo qui tocca darsi baci. Allora che dite? Vi piace? Molto semplice. Colla, forbici, le perline da mettere su, una bella ghirlanda, una bella coccarda fatta con il nastro che preferite ed è tutto pronto. Adesso ve lo faccio vedere mentre gira. Ecco qui amici, vedete com'è bello quando gira? Sotto la porta avrà veramente, insomma, è spettacolare, no? E approfitto anche per dirvi, se il progetto vi è piaciuto, di iscrivervi al canale YouTube, di dare un'occhiata al mio sito www.countrymami.com e di visitare anche la mia pagina Facebook. Ci vediamo domani, buona serata! Grazie a tutti!